Se andasse in porto sarebbe la più grande acquisizione nella storia del settore high-tech. Un'offensiva da 57 miliardi di euro da parte del terzo produttore mondiale di PC, Dell, e mirata a conquistare uno dei leader nel campo dello storage, EMC. Storie diverse quelle delle due società. Il colosso guidato dal fondatore Michael Dell, dopo essersi ritirato dai listini, vuole differenziare le sue attività. L'azienda di Boston, nei guai a causa del calo del costo dello stoccaggio dati, era rimasta invece a galla grazie alla partecipazione in VMware, ma da un po' di tempo gli investitori ne chiedevano un rilancio.